Grande festa a conclusione della tre giorni di Mandriole in festa. Mandriole ancora nel cuore della festività facenti parte del 150esimo Unità d'Italia e soprattutto un modo ancora una volta per stare felicemente insieme nel cuore del Delta. Mandriole in festa ancora una volta per il 150esimo Unità d'Italia. Sì, bisogna ringraziare tutti i volontari, il Comitato Cittadino, la Proloco, gli organizzatori di questa splendida occasione perché nei paesi piccoli forse c'è l'anima più vera e anche quella più spontanea. Io mi complimento con loro perché hanno organizzato una tre giorni che è piena di significato e questo voler dedicare una mezza giornata e uno spicchio della loro festa al 150esimo ci fa un grande onore, ci fa anche piacere. Questo significa che anche nella periferia, forse più nella periferia che non nei grandi centri, lo stimolo patriottico e quello che rappresentano anche i bersaglieri, la loro fanfara si esprime con una modalità spontanea e anche con un significato che a questo punto entra nel cuore di tutti coloro che vivono la festa. Mandriole in festa, un ciclo di eventi per una grande partecipazione di pubblico anche quest'anno? Sì, noi sono da tre anni a questa parte che abbiamo pensato, siamo un gruppo, siamo nati per far vedere un po', per far conoscere un po' più Mandriole perché tutti questi anni Mandriole si è stato messo un po' da parte e noi abbiamo visto dal primo anno a questa parte, abbiamo avuto un successo grandissimo, un successo grandissimo, siamo contenti, facciamo anche come mangiare tutta roba fatta in casa che anche quest'anno abbiamo fatto venerdì e sabato, abbiamo avuto un successo grandissimo e siamo contenti perché siamo contenti come gruppo, siamo contenti di tutto quello che facciamo perché noi siamo anche nel cuore del Parco Delta e vogliamo far vedere che Mandriole ci siamo e abbiamo tante intenzioni di andare avanti, di migliorare sempre, sempre, sempre di più.